In compagnia di Tony Cioli Puviani, trade indipendente. Buongiorno, ben ritrovato sulle fonti, Tony. Buongiorno a tutti, ciao Aleksandro, buon inizio settimana. Grazie, buon inizio settimana anche a te. In effetti per i cosiddetti long è un buon inizio settimana. Ricordiamo che ci sono anche le scadenze tecniche questo fine settimana. Tony, io parto dal Fuzzimib, non lo so se vedi ancora plausibile il target dei 30 mila punti perché sono arrivate nel frattempo tantissime variabili a partire dall'omicron, a partire dall'inflazione negli Stati Uniti che non è più transitoria, ne abbiamo parlato con te settimana scorsa, anzi quella precedente. E' una Fed in veste di Falco. Che cosa succede con i target molto ottimisti che erano plausibili solo 3-4 settimane fa? No, no, credo che sia, ovviamente ormai siamo a metà dicembre, non è un target del 2021, si trasforma in un target del 2022, nel senso che per fare 30 mila punti avremmo avuto una performance mostruosa, altamente ottimistica, era possibile senza intoppi. Evidentemente qualche intoppo c'è stato, si sta recuperando abbastanza bene e quindi tutto sommato secondo me 30 mila punti sono ancora nel mirino del Fuzzimib. Ecco, è un target ancora ambizioso perché se in questo momento, proprio mentre sto parlando, siamo, lo voglio dire esattamente, a 26 mila 900 punti direi, sì, 26 mila 900 punti e quindi bisognerebbe fare 3 mila 100 punti che sono un 12% all'incirca e quindi è un target magari da fare nel 2022. Insomma ci sono i presupposti anche perché la variante Omicron i mercati l'hanno poi di fatto ridimensionata o anche snobbata, se non per quella giornata lì. E quelle giornate lì hanno lasciato un po' il segno, ci sta, ci sta che gli indici di borsa ogni tanto scendano, anzi danno opportunità a chi vuole comprare un po' a sconto, del tutto fisiologico, anche gli istini americani non sono, hanno fatto, l'ho sentito stamattina, 67 record mi sembra, lo standard è pure, è qualche giorno che non batte il record storico ma va benissimo insomma. Assolutamente sì e dunque rimandiamo diciamo il target dei 30 mila punti per il 2021 che effettivamente è anche vicinissimo, volevo capire invece in termini di Stati Uniti e poi ci focalizzeremo su due titoli in particolar modo di cui parliamo spesso insieme a te, però volevo capire invece negli Stati Uniti, vedo che anzi posso notare e non sono soltanto io che diciamo gli istini hanno già scontato, hanno già apprezzato una Fed in veste falco o meno? Ma sì, questa riunione delle banche centrali è giusto parlarne perché le banche centrali, se si parla di mercati azionari è giusto parlare anche di banche centrali che di fatto sono state il vero market mover degli ultimi 12 anni, direi, cioè dalla fine del 2008 che con la crisi del subprime e le manovre d'emergenza fatte dal tesoro americano, proprio da novembre direi del 2008, che le banche centrali hanno assunto un ruolo da protagonista non solo per il campo obbligazionario, ma anche per la spinta che hanno dato al mercato azionario e quindi è giusto parlare, però tutto sommato l'abilità verbale dei policy maker dei mercati della politica monetaria, per cui di Powell essenzialmente, ma anche di Christine Lagarde o degli altri banchieri centrali, fa sì che i mercati tutto sommato possono anche digerire tranquillamente un'inflazione così alta, perché in qualche modo si può pensare che anche se parlare di inflazione transitoria ormai fa ridere, neanche Powell parla più di transitoria, però di una temporaneità allargata si può parlare, anche io sono convinto che adesso abbiamo avuto un picco, adesso con l'inflazione che uscirà verso il 10 gennaio, il dato ufficiale dell'inflazione verso il 10 gennaio, che farà riferimento ai prezzi di dicembre, qualcosina riusciremo a guadagnare, perché in effetti le materie prime, proprio dagli ultimi giorni di novembre, ricordiamo che il petrolio era 85, 86, 84, l'abbiamo visto sotto i 70, adesso un po' ha rimbalzato, però lo sconto sulle materie prime più importanti c'è, petrolio in primis, rame anche, e poi abbiamo visto anche il natural gas, che mazzate che ha preso, quindi questo in qualche modo non dico che farà attenuare l'inflazione in maniera importante, però questo dato tremendo, che per me è tremendo, del 6,8% che abbiamo visto venerdì scorso, sicuramente non si può mai dire, ma per me rimarrà almeno nel mese, se facciamo riferimento al mese di gennaio, un picco, quindi io mi aspetto un mese di gennaio con un'inflazione sicuramente sotto il 6,8%, potrebbe essere 5, qualcosa, e questo i mercati che sono sempre ottimisti, visto l'esuberanza di liquidità che c'è, i mercati già cominciano a apprezzare questo, e credo, credo che abbiano già… Quindi abbiamo raggiunto il picco, secondo te, questo è importante però? Sì, secondo me sì, secondo me il 6,8% del mese, dato di venerdì scorso, con riferimento al mese di novembre, CPI, Stati Uniti d'America, ha il 70% di possibilità di essere un picco dell'inflazione, e quindi se no i mercati non potrebbero comportarsi, ma sai da come lo dico, sia dall'andamento dei mercati azionari, che venerdì poi hanno chiuso in bellezza, ma anche, la cosa più importante, dai titoli obbligazionari a lungo periodo, noi abbiamo visto i rendimenti che avevano già avuto un picco di 1,75% nel periodo di Pasqua, avevamo visto 1,70%, poi abbiamo visto un picco, mi sembra, 1,77%, 1,78% di rendimento, stamattina erano 1,47% inferiori a quelli di venerdì, quindi se i mercati obbligazionali ti scontano a lungo periodo e scendono come rendimento salendo di prezzo, evidentemente non possono pensare che l'inflazione vada oltre il 6,8%, e quindi io che seguo prima la price action e poi provo a lavorare sopra una strategia, che è la cosa che conviene fare, perché io rispetto più i mercati che me stesso, presumo che il 6,8% possa essere un picco, almeno da qui a altri sei mesi, poi dopo può succedere di tutto, speriamo che scenda, perché l'inflazione poi è un male. Allora, intanto focalizziamoci su due titoli in particolar modo, io vorrei far vedere a tutti Unicredit, oggi tra i titoli migliori a Piazza Affari, anche se rallenta leggermente, però guadagna lo 0,93%, poi oggi in un'intervista al Sole 24 Ore il CEO André Orse l'ha dichiarato che il gruppo potrebbe guadagnare, scusate, guardare ad acquisizioni sia in Italia che all'estero, ma ora non c'è un dossier proprio sul tavolo, le M&A ha senso se crea valore e questo dipende anche dalle valutazioni relative al mercato, questo è un punto importante, dunque le M&A, ovvero le cosiddette fusioni che ha consigliato anche lo stesso governo Draghi, ha cercato di incentivare questo processo di fusioni nel comparto bancario, rimangono sul tavolo per Unicredit, nel frattempo però torna sotto i 13 Euro, a 12,99. Insomma, una seduta un pochettino volatile. Tony, ecco, abbiamo visto una reazione ottima del mercato del piano industriale di Orse il 2024-2022-2024, ci sono state delle perse opportunità a tuo avviso per quanto concerne Unicredit? E soprattutto ci sono delle opportunità future? No, no, ci sono. Beh, ho capito quello che volevi dire. Beh, sicuramente chi non le aveva, ma è normale, non è che uno può avere sempre il titolo che sparta. Sicuramente se lo voleva comprare un pochino si deve mordere le mani, però non è un'opportunità persa, se intendo bene, nel senso che è ancora cavalcabile. Ecco, non so se abbiamo parlato di Telecom, Telecom io l'ho sconsigliato ufficialmente a tutti, quando era 51-52, 50, di dar l'adrezza di Opa, perché Telecom nella storia, storicamente, negli ultimi anni, ogni volta che c'era odore di Opa o di riassestamento del gruppo, o i gruppi americani che entravano per fare le scarpe a Bollorè, insomma, c'era del trabusto azionario, ha sempre fatto uno sprint del 10-15-20% per poi andare a ritrovare i minimi, e quindi quando un titolo fa così, l'abbiamo visto molto in Paschi quante volte, io lascerei perdere. Mentre su Unicredit, che per carità è un titolo veramente depresso dal punto di vista storico, la questione è un po' differente, la questione è un po' differente, perché Unicredit non ha mai avuto una price action negli ultimi anni degna della seconda banca italiana, o quella che era la prima banca italiana, nel senso che non è che ha mai fatto dei grossi blef, è partita, è stata qualche mese forte, etc., Unicredit è sempre stato nel suo limbo o è sempre scesa, quindi questo piano ursale, che effettivamente ha fatto fare un balzo importante l'altro giorno su Unicredit, a fine settimana scorsa, secondo me ha dei presupposti validi, e siccome mi piace anche l'azionario bancario, per il prossimo anno, credo che Unicredit sia stata parzialmente un'occasione persa, ma è ancora un titolo cavalcabile, quindi l'opportunità che può dare questo titolo qui, secondo me nel tempo ce n'è ancora, anche perché se noi andiamo a verificare un grafico degli ultimi 10 anni o 12 anni di Unicredit, vediamo che il prezzo è così schiacciato, è così insignificante, rispetto ai tocchi, ai picchi massimi che ha avuto fino al 2008, 2007, che in tutto sommato parlare, è come vedere, non so, una Montepaschi che passa da 90 centesimi a un euro, ma ecco, vale poco, insomma, se uno ci crede, il piano strategico piace, si può arrivare a nuove acquisizioni, c'è molto da lavorare, in termini appunto di MMA, io sono positivo sul titolo. Ottimo, allora, un altro titolo di cui vorrei parlare, poi io vorrei ribadire che oggi è una giornata molto difficile a Piazza Affari per il comparto delle utilities, in particolar modo per Italgas, che fa parte dei peggiori, però vedo Enel che sta oscillando nel corso di questa giornata, sopra e sotto la parità, attualmente c'è dello 0,10% a 6,68, dunque uno che vorrebbe entrare sul mercato, possiede già il titolo, come dovrebbe comportarsi, Tony? Io, questa perdita di appeal che hanno le utility, l'Enel, ne abbiamo già parlato tante volte, ha perso improvvisamente l'appeal, non è dovuta improvvisamente a un cambio di piano strategico da parte, No, no, assolutamente. È dovuta a delle condizioni di mercato meno libere per le aziende, secondo me, insomma, meno libere nel senso che le autorità regolatorie invadono la sfera, invadono, sì, invadono la sfera privatistica di una società per azioni per imporre, come poi da piani, come già da, senza commettere irregolarità, perché effettivamente quando si parla di bollette e di prezzo ci sono delle deroghe a queste aziende nel poter attuare liberamente le politiche tariffari. Questo non avviene, nessun, credo, quasi nessun paese del mondo e quindi, e quindi anche ultimamente il dibattito, leggevo proprio ieri sera, c'era un pezzo di giornale col telefonino e diceva attenzione che le bollette dal mese di gennaio potrebbero aumentare di 800 euro medio, una cosa spaventosa e quindi... Credo annuale, annuale. Ah, vabbè, annuale. No, 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 assolutamente si tratta di una somma importante, per carità, Tony, e questo è nonostante, cioè io voglio dire, nonostante l'intervento del governo, perché hanno stanziato soldi ulteriori, credo adesso, tra 1 e 2 miliardi di euro. E appunto, quindi, quando a volte vedo che per 20 euro si accapigliano, ci sono dei... per una sciocchezza, invece 800 euro e tanta roba. E quindi, c'è sempre un po'... e probabilmente stavolta è il turno di Talgas, io vado a deduzione, queste cose qui, dicono, sta a vedere, però che il governo, qualche cosa, magari io sentivo stamattina che si provava a cercare questi fondi per diminuire e cambierà le bollette, ma sappiamo che in Italia, se vuoi cercare dei fondi per le bollette, poi li devi togliere a qualcuno, quindi non finisce mai, però tutto sommato si ha sempre la paura e che poi si verifichi questa ingerenza da parte delle autorità regolatrici sui conti e direttamente sulle società e questo non va bene. Adesso, secondo me, adesso, al di fuori di questo fatto, se è contingente, come abbiamo parlato prima dell'inflazione, ho detto che secondo me può essere anche il momento di picco che sarà temporaneo, una temporaneità importante, anche questo discorso in qualche modo c'entra, quindi già abbiamo visto il natural gas scendere di tantissimo rispetto ai picchi, quindi il petrolio di scendere e quindi anche questa importanza del valore di certe materie prime per le bollette è destinata a scemare, cioè a scendere e quindi le autorità regolatrici pian pianino allenteranno la morsa su queste società e forse sotto questo aspetto almeno non dovremmo avere più i problemi che abbiamo e sotto questa ottica qui io perché devo abbandonare un titolo che soffre evidentemente di queste cose qui e quindi può darci insomma ovviamente abbiamo già fatto una puntata con te dove abbiamo ridimensionato il target non può essere più 9 euro almeno difficile per il momento no no assolutamente ma è giusto anche ridimensionarlo e ricordarci avevo parlato di 7 ore 80 8 euro ancora certamente alla portata specialmente se il Fuzzimi va da 30 mila a quel punto il titolo Enel protagonista del Fuzzimi italiano farà la sua parte teniamo conto che poi sia a gennaio sia a luglio Enel darà parecchi centesimi di dividendi che in qualche maniera insomma devono essere d'aiuto all'azionista che magari sotto l'aspetto del prezzo in questi ultimi 6 mesi sta soffrendo molto Tony grazie mille come sempre Tony Ciolli Puviani treno indipendente abbiamo fatto il punto sulle banche sui mercati insomma possiamo proseguire tranquillamente la settimana che dici sono abbastanza ottimista sono abbastanza ottimista ottimo Tony ci risentiamo a presto buona giornata sempre piacere ciao